Il portale Sistema Puglia Come hai saputo di questa possibilità? Internet, comunque ho visto molti servizi in televisione Ragazzi siete riusciti a trovare il lavoro? Almeno a compilare il modulo? Assolutamente no Almeno a compilare il modulo? Sì, sì, sì Stiamo vedendo un po' se c'è qualcosa di interessante Come avete saputo di questa possibilità qui all'interno del padiglione della regione Puglia? Io attraverso la radio Giustamente, oddio, poi vado anche proprio alla sede dove sta Bari, collocata Quindi non è... diciamo, sono di casa Con la speranza di trovare qualcosa di interessante Cosa cerchi? Beh, io ho fatto un corso come estetista Però ne ho fatte tante di esperienze lavorative Da detta la vendita, cassiera Sono stata anche alla reception Quindi cerco un po', sono anche tour operetta Insomma, vediamo un po' quello che c'è E tu invece? Io ho fatto vice direttore in un supermercato Quindi cerco un lavoro in un supermercato E ho fatto anche in un'azienda In un'azienda, ho lavorato nella gestione aziendale Quindi bilancio, fatture, ordini e cosa vale Hai compilato il modulo? Sì Bocca al lupo ragazzi Grazie Stai cercando di compilare il modulo? Sì Che lavoro cerchi? Mi piacerebbe l'ambito del giornalismo Perché ho qualche piccola esperienza Però qualsiasi cosa va bene anche E dove? In tutta Italia, non ci sono problemi Sei anche professionista o solo pubblicista? No, ancora io ho iniziato da poco Quindi non sono né una cosa né l'altra Sono una semplice appassionata E mi sono dilettata a scrivere qualche articolo Il primo momento è un sogno che cerchiamo di realizzare Un sogno, sì, sì, è proprio un sogno Bocca al lupo Crepi Ragazzi, cosa state facendo? Stiamo cercando di compilare questo sistema Anche se sinceramente non ho ben capito come funziona Perché siamo arrivati da poco, quindi non lo so Non puoi farti seguire da qualcuno? C'è un sacco di gente qui Eh sì, infatti per questo stavo dicendo Siamo arrivati da poco, quindi non so come funziona il discorso Stiamo vedendo di compilare questo sistema E quindi qual è il tuo interesse di base qui compilando questo modulo? Cercare di trovare un lavoro nel mio ambito Informatica o altro Insomma, cercare di inquadrarmi in qualche senso Il sistema Puglia è all'obiettivo di incrociare domande e offerte di lavoro Quindi anche in maniera autonoma Grazie Grazie Ok Molto perché in questo padiglione abbiamo voluto dare ai nostri giovani, alle nostre imprese Delle opportunità di lavoro Invece alle nostre imprese abbiamo dato l'opportunità di venire qui in Fiera del Levante E ad avere assistenza e consulenza sull'utilizzo delle misure regionali Perché noi abbiamo misure molto importanti della Regione Puglia Che incentivano le nuove assunzioni Che incentivano l'apprendistato Che danno la possibilità di realizzare dei tirocini formativi Però sono tutti servizi e progetti indirizzati alle imprese E quindi vorremmo con questo unico luogo Diventare il punto di riferimento per i nostri giovani che cercano lavoro E per le imprese che invece il lavoro lo offrono E hanno bisogno di utilizzare le misure regionali Per avere la possibilità di abbassare il costo del lavoro E quindi creare nuovi posti di lavoro